Buonasera a tutti e rieccoci ancora una volta su Cannotv per parlare di cinema. Oggi tentiamo di parlare di un film da sempre molto discusso, ovvero Il Branco, un film del 1994 diretto da Marco Risi, che è il figlio di Dino Risi. Ora, su questo regista ci sono da sempre pareri contrastanti, cioè addirittura chi nel corso degli anni lo ha definito migliore rispetto al padre, e io direi di andarci un po' cauti con tali affermazioni, perché, insomma, Dino Risi, lo sappiamo tutti quanti, è il regista di Una vita difficile, del sorpasso, del vedovo, dei mostri, di profumo di donna, per cui autore di capolavori che difficilmente verranno mai eguagliati. Marco Risi, dal canto suo, ha iniziato la sua carriera di regista nell'82, dirigendo quello che è, negli anni è diventato un piccolo cult della commedia italiana, ovvero Vado a vivere da solo con protagonista Gerry Calà, c'era anche Lando Buzzanca nel cast, se non ricordo male, per poi dedicarsi ad alcuni film che effettivamente riscossero un buon successo ai tempi, come Colpo di fulmine, Un ragazzo e una ragazza, diresse anche a Batantuono, Diego Batantuono, nel Continente Nero, e poi si dedicò ad alcune pellicole più impegnate, secondo me molto riuscite, come Mary per sempre e Ragazzi fuori. Di questa parentesi d'autore di Marco Risi fa parte anche questo film del 1994, basato su un omonimo romanzo di Andrea Carraro, che a sua volta si basava su un fatto di cronaca, tanto atroce quanto orrendo, che era avvenuto una decina d'anni prima in un paesino alle porte di Roma, in un paese della periferia laziale. Due turiste tedesche erano infatti state sequestrate all'inizio degli anni Ottanta, e stuprate, ripetutamente stuprate, da una banda di balordi, che poi aveva coinvolto anche il resto degli abitanti di questo paese. Quindi un fatto veramente atroce. In pratica un intero paese si era reso complice di uno stupro di gruppo. Ed è un po' quello che Marco Risi ci racconta in questo film. Infatti il film ruota attorno ad una banda di giovani, diciamo di ragazzi perduti, di ragazzi disadattati, che con la complicità di un adulto interpretato da Luca Zingaretti e di un orrendo vecchio rottamaio del paese interpretato dal caratterista Natale Tulli, sequestrano due ragazze tedesche, due turiste tedesche, e le violentano ripetutamente. Decidendo poi, su consiglio del protagonista di questo film, ovvero un ragazzo interpretato da Giampiero Lisarelli, decidono di indurre le due ragazze alla... di diforzare, diciamo, le due ragazze alla prostituzione, coinvolgendo appunto gli altri uomini del paese e facendosi pagare per questa prestazione fornita. Il tutto poi degenererà con la morte di una delle due ragazze. Quindi, ecco, questa in pratica è un po' la trama. È una trama atroce che viene messa in scena in maniera davvero disgustosa. Infatti il film è davvero brutale, davvero aspro. Io lo avevo visto per la prima volta tempo fa, anni fa, insomma, quando ero riuscito a reperire questa copia DVD. L'ho rivisto ieri per la seconda volta, ieri sera per la seconda volta, e ne sono rimasto nuovamente molto colpito. Il tutto viene messo in scena, secondo me, con una certa intelligenza. Il film è stato, diciamo, accusato, ecco, di essere troppo sensazionalistico, diciamo, è stato... gli sono stati imputati dei difetti. Secondo me è un film diretto molto bene che mette in scena il ritratto di una gioventù perduta, ma non solo, perché appunto a questo stupro partecipano anche degli adulti. Quindi, come, diciamo, recita Tullio Chiezic, qui c'è citata una... c'è riportata, insomma, una frase del critico cinematografico, non è solo un film su una banda di mascalzoni. È il sintomo allarmante di una società civile, si fa per dire, dove imperano la maleducazione e l'abbandono di ogni regola. Peraltro, lo stupro, diciamo, ci viene raccontato appunto dagli occhi, diciamo, dal punto di vista del protagonista, interpretato da Giampiero Lisarelli, che è un attore di cui io non ho gran memoria, perché poi, al pari anche di altri nomi che hanno partecipato a questo film, si è dedicato più alla televisione che al cinema, che osserva, diciamo, lo stupro senza prendere parte attivamente alla cosa, ma rendendosi complice. Quindi forse lui è addirittura il peggiore di tutti, si nasconde sotto la facciata di bravo ragazzo, con aspirazioni da carabiniere addirittura, ma probabilmente, appunto, si rivela essere il peggiore di tutti. Come gli dice una delle due ragazze, una delle due vittime, gli altri sono degli animali, delle bestie, tu sei un verme, tu sei addirittura un verme. Per cui è un film che arriva dritto, secondo me, come un pugno nello stomaco, insomma, è un film che mette in scena un qualcosa di disgustoso in maniera altrettanto disgustosa, evitando però effettivamente la violenza, che non ci viene mai, diciamo, effettivamente mostrata, ma ci viene più che altro suggerita. Questa è una scelta, secondo me, anche molto intelligente da parte del regista in questione. Il cast è molto efficace, oltre a Lisarelli nei panni del protagonista, abbiamo anche Ricky Memphis, Salvatore Spada, Roberto Caprari, un giovanissimo Giorgio Tirabassi nei panni, appunto, degli stupratori, la presenza di Luca Zingaretti, di Natale Tulli e poi le due ragazze tedesche interpretate da Tamara Simunovic e Angelica Krautsberger. Ecco, è un film, quindi, secondo me, molto potente, alcuni lo hanno accostato alla matrice pasoliniana del neorealismo ed effettivamente io, pur naturalmente con tutti i limiti, direi che qualche similitudine c'è con quella corrente cinematografica. È un film difficile da vedere, sicuramente non per tutti i gusti. In quarta di copertina il film è sconsigliato, se non addirittura vietato, ai minori di 14 anni. Io forse lo sconsiglierai anche ai minori di 18, addirittura, perché è un film davvero molto tosto, davvero feroce. Io termino qui il mio pensiero su questo film che, con tutte le precauzioni del caso, vi consiglierei di vedere, vi consiglierei di dare un'occhiata, perché è una pellicola che, secondo me, riesce a mettere in scena in maniera intelligente una realtà che, purtroppo, risulta sempre attuale. Per cui è un film che, a mio avviso, può stimolare anche delle riflessioni in merito. Se lo conoscete, fatemi sapere che cosa ne pensate. Sono molto curioso di sapere il vostro parere, perché, come ripetuto poc'anzi, è un film che ha diviso molto, sia il pubblico che la critica. Per il resto, vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti! Ciao a tutti!